Questo è il mio staffolo, perché non si muove. Allora, siamo dentro un museo di conoscenza che si può riprendere, si può fare qualsiasi tipo di foto e tutto. Guarda, guarda. Adesso, con Jacopo guardate, che ci fa vedere. Che provo a vedere. Jacopo e Sofia, eccoli qua. Vi ricordo il canale Jacopo Pesci e Sofia, Sofiu la 94. Andate lì e iscrivetevi. Allora, che è quella? Un pound. Un pound lì. Poi si sceglie... Che tipo di... Il modulo dell'allunaggio. Qua si mette un pen e un pezzo, eh? No, un pound e un pezzo. Paglini. Si gira? Mmh. E il risultato... No, che forza. Che cos'è? Praticamente ha schiacciato il pen e l'ha fatto diventare così. No, spettacolo. No. 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 Grazie a tutti.